Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Non c'è nulla da fare. Uomini e donne non sarebbe lo stesso senza la presenza carismatica e spesso chiassosa di Tina Cipollari, ormai da tantissimi anni storica opinionista del dating assieme a Gianni Sperti e Tini Cansino La bionda laziale è un vero vortice di vitalità e veracità, e non si è mai tirata indietro davanti a scontri o momenti ad alta tensione, diventando ben presto una beniamina per i fan della trasmissione In molti, e non del tutto a torto, pensano che lo show non sarebbe lo stesso senza i suoi interventi, in grado di dare vero va anche ai momenti più spenti e poco interessanti Inoltre, ormai da molti anni, è in atto una vera e propria faida tra lei e un altro volto famosissimo della trasmissione, ovvero la dama torinese Gemma Galgani, dal 2010 in cerca del vero amore negli studi Elios di Roma Nato nel 1996, inizialmente Uomini e Donne era un talk show sui rapporti tra moglie e marito, ma nel giro di pochi anni, visti anche gli ascolti che stavano scemando, la conduttrice ha deciso di trasformarlo nel dating che oggi tutti conosciamo Il programma è attualmente una delle punte di diamante della programmazione di Canale 5, con punte giornaliere anche di 3 milioni di spettatori e ciò si deve anche in buona parte proprio a Tina Cipollari, che per la sua presenza riceve un cachet non da poco Uomini e donne Ecco quanto guadagna Tina Cipollari I fan del programma si sono spesso domandati quanto venisse pagata la loro beniamina Immaginando cifre di non poco conto E pare proprio che sia vero Si tratta di una cifra che non è mai stata confermata dalla diretta interessata o dall'azienda di Cologno Monzese Ma che non appare così incredibile Visto e considerato l'apporto da lei dato alla trasmissione Un cachet di tutto rispetto per questa bionda Vamp Che ha fatto il suo ingresso in studio la prima volta ormai più di 20 anni fa E da allora ha anche preso parte ad altre trasmissioni mediaset e Rai molto famose Tina Cipollari non solo ha partecipato al reality Rai il ristorante Mettendo in mostra notevoli talenti culinari Ma ha anche preso parte a selfie le cose cambiano Prodotto sempre dalla fascino PGT di De Filippi e condotto da Simona Ventura nel 2016 dove Inutile dirlo Per l'ennesima volta si è trovata di fronte la sua Nemesi Gemma Galgani Un lavoro che di certo non immaginava di poter fare quando Ancora nel lontano 2001 Decise di scendere per la prima volta le scale degli studi della Helios in qualità di corteggiatrice La showgirl deve tanto a uomini e donne Che le ha stravolto la vita in tutti i sensi Non solo a livello economico Le ha permesso di diventare un vero e proprio personaggio televisivo Ma le ha anche fatto conoscere il suo futuro marito e padre dei suoi figli Chico Nalli Air stylist intervenuto in trasmissione per corteggiare una tronista e che ha poi per lei perso la testa Ebbene Stando al sito contocorrente.it Cipollari prenderebbe da 1 000 a 2.000 euro a registrazione Il che Considerando che ne avvengono 2 a settimana Significherebbe qualcosa come 4 000 euro ogni 7 giorni Per un totale di 16.000 euro Mica male Se si considera che in questi anni Tina ha anche pubblicato un libro e sicuramente guadagna altro denaro anche da collaborazioni ospitate Per un totale di 16.000 euro a registrazione